Controllare la colesterolemia totale ed eventualmente la sua frazione cattiva e quella buona ad un certo punto della vita è oggi quasi un imperativo. Un imperativo perché noi sappiamo che comunque i livelli di colesterolo nel sangue condizionano fortissimamente il nostro rischio di ammalare di malattia cardiovascolare e l'invecchiamento dei nostri vasi. Ma chi è che dovrebbe controllare la propria colesterolemia? Fondamentalmente dopo i 50 anni tutte le persone dovrebbero controllare la propria colesterolemia. La soglia di età a cui controllare la propria colesterolemia può essere anche ridotta e ridotta di molto soprattutto in persone che sanno di avere in famiglia altre persone con colesterolo alto, persone consapevoli di avere uno stile di vita non propriamente salutistico, quindi faccio riferimento a persone sedentari e fortemente sovrappeso, a fumatori, ma anche persone che in riscontri occasionali e per esempio in valutazioni estemporanei in farmacia abbiano riscontrato valori occasionalmente alterati e che vale la pena di ricontrollare con esami adeguati condotti da sangue e da vena periferica. Questo è estremamente importante anche perché così il soggetto oltre a poter avere un'idea più precisa di qual è il proprio livello di rischio di malattia cardiovascolare può avere anche una sorta di valutazione in diretta di quanto le modificazioni o il proprio stile di vita in generale è adeguato comunque alla sua condizione, alla sua fascia di età e quanto eventuali integratori o alimenti arricchiti, funzionali, salutistici che lui sta prendendo per tentare di ridurre la propria colesterolemia in realtà stiano svolgendo l'effetto desiderato o non facciano altro che incrementare il costo della spesa. Grazie